Con la chiusura delle scuole disposta dal governo a seguito dell'emergenza Covid-19, la Regione Toscana, sulla base di una specifica ricognizione effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale, ha stanziato 500.000 euro per le scuole toscane, da destinare all'acquisto di tablet, portatili ed altri dispositivi necessari a favorire la didattica a distanza. Le scuole poi provvederanno a fornire gli strumenti, incomodato gratuito, alle famiglie che ancora ne risultano sprovviste. Come ha spiegato l'assessore regionale alla pubblica istruzione Cristina Grieco, la finalità è quella di erogare alle istituzioni scolastiche contributi integrativi rispetto a quelli del governo, affinché nessuno studente rimanga senza strumenti e connessione necessari per la didattica a distanza. Sempre a seguito dell'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia, la Regione Toscana e la piattaforma tecnologica Trio per la formazione a distanza hanno avviato anche una serie di attività dedicate agli istituti scolastici, a supporto e integrazione della didattica.